Buonasera e benvenuti all'Apple Giornale di Canale 3 Toscana. Per trovare una nuova struttura che sostituisca la mensa di via Bandini, la regione potrebbe sfruttare i fondi derivanti dalla vendita dello stesso immobile e anche alcune risorse che potrebbero arrivare dall'accessione dei locali della vecchia sede dell'azienda del diritto allo studio a Firenze. La strategia l'ha spiegata il Presidente della regione toscana a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università per Stranieri di Siena. Nel servizio di Catiuscia Vaselli. La exit strategy per lo stallo sulla mensa di via Bandini prova a dettarla direttamente Eugenio Gianni. Per il Presidente della regione toscana è realistica l'ipotesi di una vendita della struttura per poi procedere con l'acquisizione di un immobile che abbia l'agibilità per ospitare il servizio. Non solo, il Governatore paventa anche ulteriori strade percorribili grazie anche all'arrivo dei fondi di sviluppo e coesione governativi. Noi abbiamo messo 6 milioni per la realizzazione della nuova struttura del diritto allo studio a Firenze in Santa Pollonia. Portando in Santa Pollonia la sede della DSU si libera l'attuale immobile di Viale Granci che può essere venduto e a quel punto il DSU ha quelle risorse che aggiunte alla vendita ai via Mancini possono consentire in un luogo idoneo dove le norme possono essere rispettate e dove c'è agibilità una prospettiva di mensa come si deve anche a Siena. Di 15-20 giorni è invece il tempo previsto per l'incontro sull'argomento tra Gianni, il sindaco Nicoletta Fabio, i rettori Tommaso Montanari e Roberto Di Pietra e il presidente dell'azienda di diritto allo studio Marco Del Medico. Il presidente della regione ha altre priorità però nella sua agenda e lo ammette quando dice che quello di via Bandin non è un punto urgente all'ordine del giorno. Ma il tema si fa sentire nella nostra comunità accademica. A rilevarlo è stato lo stesso Tommaso Montanari durante il suo intervento che ha aperto l'anno accademico all'Università per Stranieri. Mi preme dire che a Siena non basta una mensa sola, ci vogliono due mense bisogna garantire almeno 4.000 pasti la mattina e la sera a una popolazione studentesca di circa 23.000 persone. È chiaro che i studenti e le studentesse di Siena si sono abituati a un'offerta minore ma non è una buona ragione per continuare a trattarli così. Se li faremo vivere meglio, mangiare di più, mangiare meglio, arrivare meglio a Siena verranno più persone a Siena. Questo non è un problema dell'Università, è un problema della città. Meno armi, più borse di studio. Stop genocidio è quanto si è letto nei cartelli di una decina di manifestanti che hanno inscenato una protesta stamani durante l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università per Stranieri di Siena quando ha preso parola il ministro dell'Università e a ricerca Anna Maria Bernini. Palestina libera, vergogna, complici del genocidio hanno gridato i ragazzi, membri del comitato Palestina per Siena a cui poi ha risposto la stessa Bernini. Proprio lei tra l'altro, mentre parlava con i giornalisti, ha detto che il Biotecnopolo è ora alla ricerca di un direttore amministrativo. Marco Crimi. C'era da aspettarselo ed è accaduto l'armonia dell'inaugurazione dell'anno accademico all'Università per Stranieri di Siena si è fermata bruscamente quando un gruppo di manifestanti filo Palestina ha inscenato una protesta. Il momento era quello in cui ha preso parola il ministro dell'Università e a ricerca Anna Maria Bernini. Il governo rappresenta, il governo non ci manganella quando andiamo in piazza a protestare per il diritto allo studio e per la liberazione della Palestina. Poi scatta il coro Palestina libera e le urla vergogna indirizzate a Bernini. Parole quest'ultime che sono state rispedite subito al mittente. La prima forma di comunicazione, lo dico a me stessa prima ancora che a tutti, è l'ascolto. Come si fa a comunicare se non si capisce chi si ha davanti e che cosa sta dicendo? E' molto facile urlare, ascoltare. Questa è la parola chiave. La protesta è andata avanti anche dopo. Uno dei manifestanti si è confrontato con il presidente Eugenio Gianni. Altri hanno chiamato in causa il rettore delle Università per Stranieri di Siena, Tommaso Montanari. Stamani la presenza di Bernini è stata propedeutica ad avere novità sul dossier Biotecnopolo. Il Biotecnopolo è già in itinere. Abbiamo un presidente, abbiamo un consiglio di amministrazione, dobbiamo nominare un direttore amministrativo e dobbiamo lavorare sull'attività amministrativa, sull'organizzazione concreta della struttura. Ha detto Bernini facendo poi sapere che quest'ultima figura deve essere scelta dal CDA. Da Gianni intanto piovono critiche. Proprio il governatore ha evidenziato come il solo sostegno dei ministeri romani al Biotecnopolo mostre evidenti limiti. La CGL è favorevole all'introduzione del reato di omicidio sul lavoro. Dice noi subappalti chiede più ispettori per poter controllare l'effettivo rispetto delle norme nei cantieri. La CISL richiede la formazione preventiva obbligatoria prima dell'ingresso dell'azienda nel registro della Camera di Commercio. Una formazione continua per tutti i lavoratori del settore oltre all'introduzione del cartello digitale per poter avere una massima trasparenza sul comportamento delle imprese. Giannetto Marchettini, presidente di Ance Siena, pensa a modalità per premiare le imprese virtuose e rispettose delle norme. Prosegue il dibattito e coinvolge il settore edile dopo la tragedia avvenuta a Firenze. Il servizio di Gennaro Groppa. Sì all'introduzione del reato di omicidio sul lavoro, no ai subappalti, più ispettori in modo tale da riuscire a controllare l'effettivo rispetto delle norme nei cantieri. Sono le richieste formulate dalla filea CGL e dal suo segretario generale di Siena Simone Arturi per migliorare la situazione del settore edile e magari riuscire a salvare delle vite. I numeri dei morti sul lavoro in Italia rimangono altissimi. La tragedia avvenuta a Firenze ha ovviamente fatto partire un ampio dibattito a livello nazionale relativo a cosa possa essere fatto per evitare che simili drammi possano avvenire ancora. Noi abbiamo un codice degli appalti pubblici dove non meno di pochi mesi fa, quindi il loro scorso anno, è stato regolamentato il subappalto a cascata. C'è la possibilità di continuare a subappaltare infinite volte e domandatevi voi che cosa può succedere a quel lavoratore che lavora in quell'azienda che è al terzo, quarto, quinto o quinto subappalto. La CISL attraverso il suo segretario generale di Siena Riccardo Pucci presenta alcune proposte. Formazione preventiva obbligatoria prima dell'ingresso delle aziende nel registro della Camera di Commercio una formazione continua e obbligatoria per tutti i lavoratori del settore più ispettori e l'introduzione del cartello digitale per poter avere una massima trasparenza su quella che è l'attività delle imprese e il loro effettivo rispetto delle norme. Digitalizzazione è fondamentale per avere sicurezza nei vostri lavori e non pensare che la mattina si sveglia le persone vanno al lavoro e almeno tre di quelle persone non ritornano a casa. Noi bisogna attenzionare e qui le parti sindacali devono essere a tavoli. Il presidente di Ance Siena, Giannetto Marchettini parla della possibilità di andare a sostenere e supportare le imprese del settore che si dimostreranno virtuose e rispettose delle norme. In queste ore, anche con i sindacati, con la scuola edile e con tutti gli ostri organi che in qualche maniera stanno vicino a questo mondo stiamo ragionando su una serie di piccole ma cose importanti, virtuose che possono nascere quella soprattutto di sopportare e in qualche maniera incentivare dando anche delle opportunità di mercato alle imprese virtuose. Con la nomine l'onorevole Marco Saracino membro della Segreteria Nazionale si avvia il percorso di commissoriamento del PD comunale di Siena una scelta maturata all'esigenza di potenziare e rafforzare e dare uno slancio al ruolo del partito della città e dell'interesse del partito tutto si legge nella nota inviata dal segretario del PD toscano Emiliano Fossi sentiamo il segretario provinciale del PD Andrea Valenti si tratta di ridare finalmente un percorso che porterà alla guida di questo partito dopo mesi di vuoto il massimo non cui ci si è dimesso a giugno quindi siamo a febbraio era necessario insomma quanto prima provvedere a questo passo quindi io sono molto soddisfatto sarebbe bastato ascoltare quella che era la volontà della maggior parte dell'assemblea perché io ho fatto delle consultazioni durante il mese di luglio e di agosto e questo percorso che ora è stato prospettato dal regionale era già stato indicato negli stessi componenti dell'assemblea il nuovo segretario è stato eletto dal congresso nei tempi io spero anche abbastanza veloci nei quali il commissario insomma cercherà di capire qual è la strada migliore Medici in corsia fino a 72 anni ha approvato l'emendamento di Fratelli d'Italia al decreto mille proroghe che consente all'azienda del Servizio Sanitario Nazionale di tenere in servizio fino al 31 dicembre 2025 oltre l'età pensionabile su loro istanza dirigenti medici e sanitari la misura che è valida per chi è andato in pensione dal 2023 però non convince Roberto Monaco segretario nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici il servizio di Aldotani ha lavoro fino a 72 anni lo stratagemma del governo per colmare la mancanza di medici la misura che è valida per chi è andato in pensione dal settembre 2023 però non convince Roberto Monaco segretario generale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici di fatto penso che porterà pochi risultati perché vuol dire mantenere i medici da 70 a 72 anni in servizio però per poter rimanere in servizio devono lasciare gli incarichi che avevano prima della pensione non penso a risolvere i problemi della sanità portando al lavoro le persone che hanno già dato tanto per il Servizio Sanitario Nazionale per il dirigente la soluzione più logica è non guardare indietro ma rivolgersi agli specializzanti i sindacati lo chiedono da tempo mentre il governo e regioni preferiscono monetizzare le prestazioni occasionali la Toscana guida la graduatoria nazionale con 134 milioni spesi per i gettonisti una soluzione potrebbe essere quella che è stata già chiesta ed in alcune situazioni già avvengono di fare entrare nel mondo del lavoro i specializzanti degli ultimi anni noi abbiamo proposto come ordini dei medici nazionali abbiamo proposto anche un'altra soluzione che è quella di togliere le incompatibilità per cui persone che hanno una specializzazione che però fanno un altro lavoro che possono utilizzare la specializzazione facendo dei turni raggiuntivi una sorta dei gettonisti del pubblico si parla tanto dei gettonisti ma invece di essere gettonisti di cooperative e di essere gettonisti privati ci sarebbero dei gettoni calmierati quindi ci sarebbe anche un risparmio strada che secondo Monaco allontana sempre più i medici dal servizio pubblico dove la loro valorizzazione non è adeguata una convenzione per combattere il sovraindebitamento delle famiglie ciò che hanno affermato oggi la fondazione toscana per la prevenzione dell'usure banca Mediolanum con questa convenzione la fondazione garantirà il 60% dell'importo dei finanziamenti concessi dalla banca l'importo massimo erogabile per ciascun finanziamento sarà di 20.000 euro e potranno durare fino a 5 anni il servizio di Pietro Federici un prestito di soccorso alle persone e alle famiglie sovraindebitate con difficoltà di autonomo accesso al credito è quello che prevede la convenzione firmata oggi alla Sala Maggiore della Misericordia tra la fondazione toscana per la prevenzione dell'usura e banca Mediolanum le situazioni di sovraindebitamento che negli anni sono aumentate hanno visto diminuire la capacità di spesa anche a causa dell'attuale grave inflazione con ritribuzioni sostanzialmente ferme rispetto all'incremento del costo della vita con questa convenzione la fondazione per la prevenzione dell'usura garantirà il 60% dell'importo dei finanziamenti concessi dalla banca l'importo massimo erogabile per ciascun finanziamento sarà di 20.000 euro e potranno durare fino a 5 anni questa è la quindicesima convenzione che stiamo firmando in Italia la banca Mediolanum ha iniziato a collaborare con le fondazioni anti-usura dal 2009 quest'anno sono 15 anni e questo è indipendentemente da come è andato lo scorso esercizio gli interventi che facciamo li facciamo a un tasso meramente simbolico dell'1,25% e senza garanzia per il debitore però questo è un lavoro di squadra fondazioni più banca Mediolanum la fondazione toscana per la prevenzione dell'usura riceve ogni anno il 25% dei fondi anti-usura a livello nazionale e la firma della convenzione odierna testimonia l'importanza della sezione regionale in questo ambito ci siamo trovati nel senso che ci hanno cercato e hanno proposto di collaborare con noi il dato come dicevo prima più importante che ci ha così convinto particolarmente è quello della velocità nel giro di una settimana 15 giorni sono in grado di erogare questo è stato uno degli elementi e poi appunto l'insieme delle loro modalità Negli ultimi anni il sovraindevitamento è aumentato notevolmente il dato ha suscitato le riflessioni delle molte persone presenti oggi in particolar modo dell'arcivescovo e cardinale Augusto Paolo Lo Iudice La povertà aumenta il costo della vita aumenta terribilmente gli stipendi sono quelli che sono una certa fatica nel coniugare richieste e offerta di lavoro un insieme di situazioni che come sappiamo tutti coinvolgono l'intera società chiaramente producono questo effetto siamo onesti siamo sinceri non sempre tutto si riesce a risolvere o a portare a compimento però l'importante è provarci e fare di tutto per riuscirci a arrivare in fondo la menzana patinaggio vola nel weekend sportivo i ragazzi senesi trascinati dal campione del mondo Duccio Marzili hanno mostrato una grande prova nei campionati italiani a Pescara salendo sul gradino più alto del podio nella corsa a Staffetta vediamo una prestazione da incorniciare la sezione patinaggio della menzana è riduce da un weekend di grandi soddisfazioni ai campionati indorre di Pescara i senesi trascinati da Duccio Marzili sono risaliti dopo molti anni sul gradino più alto del podio della corsa a Staffetta il campione del mondo insieme ai compagni Filippo Scotto e Gabriele Cannoni hanno mostrato un grande gioco di squadra contribuendo anche al successo finale della menzana siena nella classifica per società tanti di noi non si aspettavano volevamo dare il massimo e è quello che abbiamo fatto ho fatto il primo giorno il giro a cronometro dove sono arrivato il secondo e successivamente in fondo la Staffetta a squadra la finale della Staffetta ti dico tre gare tirate è molto al limite proprio al 110% come ti ho detto prima però anche quelle ci hanno dato tanta soddisfazione La bella figura ha suscitato una riflessione nel campione che ha analizzato il gradimento del pattinaggio in Italia ed ha commentato come nei giovani si sta riaccendendo la passione per questo sport stanno venendo fuori un sacco di ragazzi sono contento che soprattutto anche a livello giovanile ci sia un po' di ricambio generazionale chi sta salendo di categoria comunque poi potrà fare anche da stimolo anche a me perché io comunque so ben o male uno di quelli più vecchietti ormai nella mia categoria nei senior maschi però mi danno anche a me un bello stimolo nel complesso il weekend sportivo ha visto il pareggio della Roburi in casa dello Scandicci per 0 a 0 nel basket invece la menzana ha portato a casa un'altra vittoria a farne le spese questa volta è stata Livorno che ha dovuto arrendersi con il risultato di 89 a 51 KO invece per la Virtusiena contro Cecina che passa comunque alla seconda fase del campionato da seconda in classifica questa è notizia dello sport si chiude il nostro telegiornale e vi lascio al nostro post TG ospite del nostro studio insieme a Pietro Federici ci sarà Irene Chiti un ritorno a Canetria Toscana di una nostra collega giornalista per un nuovo importante format che da venerdì partirà Valdelsa Futura torniamo a raccontare il territorio della Valdelsa lo facciamo dall'interno lo facciamo comune per comune ogni settimana sarà protagonista della puntata che andrà in onda ogni venerdì alle 21 curata e condotta dalla nostra collega Irene Chiti quindi io vi lascio al post TG e poi ovviamente come lunedì il Cinema de Sé Cinema 3 alle 21 sulla nostra emittente buona serata a Grazie a tutti.